Quando sono arrivati qui i primi 60 profughi non hanno dovuto compiere alcuna effrazione. La porta era spalancata, disponibile e facile da attraversare. E la porta che c'è adesso l'hanno costruita loro. Questo luogo, che nei lustri è già stato un centro di accoglienza e per altri profughi ed esuli italiani, greci, libici, era un grande convento, come usava un tempo, volte altissime e grandi cortili. I primi occupanti, oggi sono circa 200, erano e sono tutti rifugiati politici con la massima protezione internazionale. Per questo hanno ricevuto tutto il permesso di soggiorno. Ma una volta fuori dal CARA, il centro di accoglienza per richiedenti asilo, non sapevano più dove andare. Nonostante tocchi agli enti locali, né comune, né provincia, né regione si sono più interessati di loro. È un gravissimo problema perché non c'è facilità, non c'è come vivere. La CARA di là non c'è a posto per dormire perché è già finita la CARA, mandare tutti via. Anche quanto mandare persone via, la CARA non c'è a posto per dormire, non c'è soldi per affitti a casa. Anche non posso dormire fuori. A occuparsi di queste vite, di queste storie, sono alcuni cittadini baresi, un'associazione che si chiama Rivoltiamo la Precarietà, e loro stessi, i rifugiati, che hanno letteralmente costruito o ricostruito porte e finestre, bagni, docce, cucinette. In maggioranza, anche se lavorano raccogliendo pomodori o facendo altri simili lavori, sono abili artigiani, carpentieri, muratori, idraulici. Con un permesso di soggiorno in ordine potrebbero, per esempio, formare una cooperativa di servizi e partecipare a bandi pubblici. Il Comune di Bari, oltre che cercare una sistemazione diversa, visti i lavori imminenti di restauro che incombono su Santa Chiara, sempre ammesso che la magistratura non blocchi tutto, dovrebbe provvedere alla cosiddetta residenza virtuale. Un tempo esisteva a questo scopo via città di Bari, che deve però corrispondere a un vero luogo fisico e non solo virtuale. Non sappiamo se l'assessora welfare Francesca Bottalico sia o meno al corrente di questo necessario escamotage per trasformare la legge in solidarietà senza violare nessun codice. Come non sappiamo se sia mai venuta in queste prime settimane di governo a vedere con i suoi occhi che cosa sia un fenomeno globale in cui comunque pulsano le singole vite e le singole speranze di uomini e donne. Grazie. Grazie.